Odio i miei capelli Io direi che la frangetta non me la tocco Veramente è una cosa molto casuale Quindi Che anzi raga, vabbè Dai, è il momento Quattro E' veramente triste Se tutto questo video fosse un fail E' chiaramente molto grave Pancioni Ok, allora Ok What I wanted Yay